Ischia verso le elezioni amministrative, il cavogruppo del PD o Torino-Mattera, la maggioranza è compatta. Lavoriamo per la candidatura di Enzo Ferrandino a sindaco. Le iniziative per il Natale ischitano, tra Ischia Arte e lo shopping con l'aperitivo, ascolteremo l'assessore Carmen Criscuolo. Il Germano Reale sosta a Forio e da quasi un anno che un gruppo di Germani Reali ha deciso di sostare in inverno nelle calde acque del porto di Forio. Ci sono poi gli appuntamenti, non soltanto quelli natalizi, insomma ci vediamo tra poco, come sempre, dopo la pubblicità. Abc, per respirare l'atmosfera natalizia. Abc, la tradizione, il presepe, i pastori, gli addobbi natalizi. Abc, grande assortimento di alberi ignifoghi, decorazioni, festoni ed illuminazioni. Abc, un mondo di belle idee. Abc, siamo a Ischia Porto sulla riva sinistra. Abc, illumina il tuo Natale. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia. Un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, quattro piscine, palestra, camere e residence con arreddamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di L'Acquameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo, per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia, emozioni uniche tra il cielo e il mare. Ti piace lo sport? Ti piace scommettere? Allora passa da noi. Passa a PlanetWin365, la sala scommessa per il tuo divertimento. Le quote più alte, i bonus più vantaggiosi. Li trovi solo da PlanetWin365, PlanetWin365 e a dischi ai pilastri Nuova Gestione e a Casamiccio la Terme in Via Cumana. Se ti piace scommettere, c'è un pianeta dedicato a te. PlanetWin365, il pianeta vincente delle scommesse. Il gioco è vietato ai minori e crea dipendenza. Sul porto di Ischia, sulla splendida Rivdruat, trovi il ristorante La Baia del Clipper. Nunzio e la sua famiglia, in una calorosa atmosfera, ti faranno gustare piatti dai sapori unici. Specialità marinare, frutti di mare e pesce sempre di giornata, cucina tipica mediterranea e la classica pizza napoletana. Il porto di Ischia, il faro e La Baia del Clipper. Il ristorante dove i sapori sposano il profumo del mare. Prenota da noi i tuoi banchetti del 24, 25 e 26 dicembre. Il cenone della vigilia, il pranzo di Natale e Santo Stefano. La Baia del Clipper ti aspetta per festeggiare con te. Per info e prenotazioni, 081-333-4209. Il Natale a tavola, passalo da noi. Mese di dicembre. L'atmosfera natalizia la crea la ditta Lara Spata. Pandoro, panettone e tronchetto gelato per un dolce Natale e un goloso Capodanno. Prenotali telefonando allo 081 90 27 56. Oppure li trovi in tutti i supermercati, bar e alimentari dove è esposta la nostra locandina. Per il tuo bianco Natale, Lara Spata, gli uomini del freddo. L'atmosfera natalizia la crea la ditta Lara Spata. La pocetta Ischia. Quanti intrecci l'arresto dell'ex parlamentare fa scalpore sull'isola di Ischia per la sua assidua frequentazione e per i rapporti che lo legano al senatore ischitano Domenico Desiano. Ischia, Ottorino, Matera. La maggioranza è compatta. Il pensiero del capogruppo del PD in vista delle amministrative del 2017. Lavoriamo per la candidatura di Enzo Ferrandino a sindaco. Ischia Art e Shopping con l'Aperitivo, le iniziative per il Natale ischitano. Un impulso maggiore a frequentare il centro di Ischia tra shopping e divertimento. L'intervista all'assessore Carmen Criscuolo. Turisti abituali, i germani nel porto di Forio. Trascorre l'inverno a Ischia è un invito che piace alle anatre. Dopo Sant'Angelo, il germano reale sosta a Forio. Dopo il TG, speciale Finestre sul Futuro. Un progetto finanziato dalla National Geographic Society. Ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione di Teleischia. Dunque l'arresto dell'ex parlamentare del PDL, Amedeo Laboccetta, ha suscitato grande squalpore sull'isola d'Ischia per la sua assidua frequentazione e per i rapporti che lo legano al senatore ischitano Domenico Desiano. Vediamo il servizio. L'ex parlamentare del PDL, Amedeo Laboccetta, è stato arrestato nell'ambito di una inchiesta della Direzione Distrittuale Antimafia di Roma. L'Associazione per delinquere transnazionale, riporta il fatto quotidiano di cui faceva parte, riciclava in tutto il mondo i proventi del mancato pagamento delle imposte sul gioco online e sulle videolotteri. In manette anche l'imprenditore Francesco Corallo. Gli arresti avvenuti anche all'estero sono stati eseguiti dalla SCICO della Guardia di Finanza, in contemporanea per acquisizioni in numerosi stati e sequestri di numerosi beni e conti correnti per centinaia di milioni di euro. Laboccetta è stato ammanettato a Napoli e trasferito a Roma nel carcere di Regina Celi. Laboccetta, napoletano, come riporta il fatto quotidiano, cresciuto nel fronte della gioventù e poi nell'MSI, in Parlamento con Alleanza Nazionale e poi PDL, è stato deputato e componente della Commissione Antimafia. Dopo la mancata rielezione è rimasto comunque dentro Forza Italia, partito per il quale è vice segretario regionale in Campania. Il legame tra Laboccetta e Corallo è di lunghissima data. Già nel novembre 2011 Laboccetta si era opposto al sequestro di un PC trovato durante una perquisizione della Guardia di Finanza negli uffici dell'imprenditore. L'aggiunta per le autorizzazioni della Camera aveva respinto la richiesta della Procura e Laboccetta aveva infine consegnato alla Procura di Milano il computer, dal quale però erano stati cancellati alcuni contenuti. Sempre con i soldi di Corallo, secondo quanto risulta dagli atti dell'inchiesta, sottolinea la Repubblica, l'ex parlamentare Laboccetta si era pagato anche la campagna elettorale che nel 2008 lo aveva portato alla Camera sotto la bandiera del PDL, a documentarlo tra l'altro un prelievo in contanti di 50.000 euro trasformati dalla Laboccetta il 27 marzo 2008 in un assegno circolare intestato al tesoriere della sua campagna elettorale nel collegio Campania 1. A Medeo Laboccetta è un volto ben noto al pubblico isolano. Insieme al collega di partito Luigi Cesaro è stato tra i principali sponsor politici di Domenico Desiano, senatore e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, partecipando alle campagne elettorali che hanno visto impegnato il politico isolano alla provincia, alla regione, alla Camera e al Senato. A tutte le convention e manifestazioni di partito Laboccetta non ammancava mai, la sua presenza tra i big era scontata. Molto spesso era all'acquameno anche per vacanza, al di là di impegni prettamente politici. Ma il suo legame con l'isola si è spinto oltre. In molti non hanno dimenticato l'interrogazione parlamentare che presentò contro i vertici del commissariato di Ischia quando l'allora commissario Antonio Vinci Guerra e l'ispettore Gandolfo indagavano a tutto campo per la costruzione abusiva del porto turistico di Lacquameno e su vari intrecci dell'attuale senatore Desiano e di politici a lui vicini. Domenico Desiano, ex sindaco di Lacquameno, ricorda il fatto quotidiano, nel 2008 viene indagato insieme ad altre 33 persone per una serie di reati che vanno dall'associazione a delinquere al falso in atti amministrativi, dal peculato fino alla truffa ai danni di un ente pubblico. Al centro dell'inchiesta, la vicenda del porto turistico di Marina del Capitello del comune di Lacquameno. Le indagini dimostrarono che per realizzare l'opera venne distrutta una prateria di mezzo chilometro di Posidonia e danneggiata la condotta sottomarina nella quale confluisce l'intero sistema fognario comunale. La boccetta in Parlamento accusò con l'interrogazione parlamentare urgente sia Vinci Guerra che Gandolfo di fare indagini con un uso politico della giustizia. Quanto detto, da solo basterebbe a chiedere a giustificare la rimozione di quei funzionari di polizia responsabili di tale pesante intromissione nell'attività e nella vita dell'ente locale e del danno anche errariale provocato. Aveva dichiarato, illustrando il provvedimento a Montecitorio, come riporta lo stesso fatto quotidiano. La risposta in aula dell'esecutivo, però, non lo aveva soddisfatto. Spero che il Governo sappia porre in essere le iniziative necessarie per giungere allo stato di cose che noi auspichiamo con forza. Spero inoltre che esso lo faccia con la massima celerità prima che si sviluppino iniziative clamorose rispetto alle quali sarà poi difficile poter porre un freno. Più che una richiesta, sembra un velato avvertimento al Commissario Vinci Guerra. Era il 24 luglio 2008, sette mesi dopo, il trasferimento era già cosa fatta. Il Comune di Ischia verso le elezioni amministrative. La maggioranza naviga tranquilla e il pensiero del Capogruppo del PD Ottorino-Mattera. Abbiamo dato prova di compattezza in Consiglio Comunale, stiamo lavorando per mantenere gli equilibri, siamo fiduciosi di questo scorcio di amministrazione. Abbiamo attivato un percorso per recuperare anche qualche pezzo che nel frattempo è andato via. E sulle prossime candidature Ottorino-Mattera si sbilancia. Stiamo lavorando per la candidatura di Enzo Ferrandino a Sindaco. Sentiamo. Ischia verso le elezioni amministrative della prossima primavera. Ottorino-Mattera, allora la maggioranza che livello di salute gode? A gode di un buon livello di salute e ne ha dato prova negli ultimi consigli comunali nei quali anche il voto diciamo della maggioranza è stato particolarmente compatto anche rispetto a qualche edizione precedente invece del Consiglio dove i numeri erano risicati. E tu sai che la febbre diciamo dell'amministrazione o lo stato di salute dell'amministrazione lo si misura attraverso appunto il Consiglio Comunale con gli equilibri di maggioranza. Sicuramente nelle ultime volte è stata data prova di compattizza anche con la compagine nella sua interizza così come tutto sommato si presentò all'inizio della sua proposta elettorale del 2012. Passati quindi i malumori degli anni passati? Sicuramente sono un po' i fumi diciamo le nubi si sono diradate è chiaro che la politica è una materia in movimento quindi oggi è così e potrebbe anche non esserlo nelle prossime edizioni. Noi ci auguriamo che stiamo lavorando affinché si mantengano tutte le condizioni di equilibrio utili. Candidature nell'aria? Si parla tanto di Enzo Ferrandino candidato sindaco? Enzo sicuramente sta svolgendo il suo periodo di attività da vice che lo porterà diciamo alla sua candidatura da sindaco. Noi ci stiamo lavorando insieme tutti quanti e cercheremo di arrivare a questo risultato. Anche questa non è una cosa scontata ma sicuramente l'amministrazione ci lavora. Però intanto avete perso tanti pezzi strada facendo. Eh sì purtroppo questo è capitato è difficile come dire lavorare in salita e quindi provare sia a recuperare i pezzi che sono andati via sia a recuperare fiducia all'interno dell'elettorato o di quelle anime che non sono più in amministrazione. Pure questo fa parte di un percorso e quindi pure su quello ci stiamo lavorando siamo come dire fiduciosi di ultimare questo scorcio di amministrazione tale da farci recuperare delle posizioni. Rapporti col centro-destra? I rapporti col centro-destra tu sai che una parte del centro-destra sta all'interno dell'amministrazione quindi sostanzialmente quando tu parli di centro-destra Ischia e avendo questa compagine anche noi all'interno tutto sommato ci preoccupa poco perché riteniamo che la proposta del centro-sinistra insieme alle civiche insieme a quella parte di centro-destra che è rimasta in amministrazione costituisce uno zoccolo duro e forte per far sì che l'amministrazione si riproponga con tutte le carte in regola. E' stata pubblicata nella serata di ieri la graduatoria per il concorso indetto dal comune di Ischia per rinfoltire il comando di polizia municipale una selezione che ha suscitato polemiche in quanto i posti da assegnare 20 subito e altri 30 successivamente sono a tempo indeterminato part-time per tre mesi da spalmare tra aprile ed ottobre hanno partecipato in 379 90 i bocciati ai quiz che si sono svolti ieri mattina al palazzetto Federica Tagliaratela allestito per l'occasione c'è poco da polemizzare il vice sindaco Enzo Ferrandino da questa graduatoria usciranno i futuri dipendenti del comune dalla minoranza interviene invece Ciro Ferrandino in questi anni hanno perso un'occasione per fare assunzioni a tempo pieno e indeterminato istituzionalizzando la precarietà è solo una mossa pre-elettorale la regione Campania ha emanato un avviso per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di servizi di pubblica utilità il comune di Serara Fontana ha presentato la propria candidatura con un progetto di servizi di pubblica utilità consistente nel servizio di monitoraggio sulle strade demaniali comunali e provinciali finalizzato alla prevenzione del fenomeno del randagismo e sull'esistenza di dissesti stradali servizio di apertura delle biblioteche pubbliche lavori di giardinaggio lavori di varia natura in occasione di manifestazioni lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini i progetti avranno la durata di sei mesi con un impegno massimo di 20 ore settimanali e la corresponsione di una indennità mensile di 580,14 euro i soggetti da avviare nei servizi di pubblica utilità devono essere attualmente disoccupati e privi di sostegno al reddito gli interessati possono presentare domanda al comune di Serara Fontana è stata convocata presso la sede consortile l'assemblea dei soci del Cisi per il giorno 20 dicembre in prima convocazione alle 10 e in seconda convocazione il 21 dicembre sempre alle 10 tra gli argomenti all'ordine del giorno la ratifica della delibera del liquidatore unico numero 10 del 26 gennaio avente ad oggetto variazione al bilancio pluriannale la trasformazione del consorzio Cisi in SPA e successiva fusione per incorporazione in EVI SPA ed ancora ricerca locali per la sede dell'unica società EVI SPA è iniziata oggi la Ischia Art un'iniziativa dell'amministrazione di Ischia nell'ambito del cartellone di Natale ogni giovedì artisti di strada musicisti ed iniziative culturali animeranno le vie del centro sempre oggi è partita anche shopping con l'aperitivo a cura di Ascom Confcommercio Federalberghi e Confesercenti chi acquista nei locali chi aderisca all'iniziativa riceve un bonus da consumare nei bar che espongono la locandina e già gli apprezzamenti sono stati positivi abbiamo raccolto la testimonianza di un commerciante Valentino Federico e di un albergatore Sandro Florenzo che hanno avuto parole di elogio sia per la misura promozionale che per lo spettacolo Ischia Art vediamo il servizio che dà anche la parola ai protagonisti di Ischia Art i giocolieri clown e artisti di strada che ci faranno compagnia ogni settimana vediamo le strade vivaci per Natale ad Ischia con un'iniziativa che si chiama Ischia Art e quindi ci sono qui dei giocolieri dei musicisti che rallegrano quelle che sono le strade dello shopping allora parliamo un po' di voi sì ciao io mi chiamo Giulio e sono un artista di strada sono di Napoli e questa sera animeremo un po' con le strade di questo magnifico corso è già in corso uno spettacolo adesso nella piazza sopra e noi stiamo andando a animare un po' con le strade giù allora la signorina è troppo alta per chiederle qualche cosa ma forse ci riesco ciao io quando sono così alta sono Serafina e speriamo di rallegrare un po' con il popolo di Ischia e chiediamo a un imprenditore ischitano se questa iniziativa dell'amministrazione di rendere più vivace il Natale ischitano piace sì bello molto bello a me piacciono molto gli artisti di strada veramente sono bravi sono artisti di strada tu che senti insieme a molti turisti perché vengono da te in albergo rendere insomma un cartellone di Natale più vivace per l'isola è una cosa positiva sì sicuramente anche le luci attirano gente sicuramente è una bella iniziativa sì chiediamo ai commercianti del corso Vittoria Colonna se questa iniziativa dell'amministrazione piace Valentino Federico ritengo che tutto quello che possa servire per incentivare un pochettino il movimento dei consumi quello che può essere anche favorire un pochettino l'afflusso turistico e anche insomma il nostro tutto quello che può in qualche maniera incentivare il movimento su questo corso e comunque sui nostri lidi secondo me è assolutamente più che incomiabile tenuto banco in piazzetta San Girolamo con uno spettacolo che ha tratto tantissimi ragazzini bimbi ma anche bimbi grandi come ti chiami? io sono Rudy in arte Rudini è uno spettacolo che gira da tanto quindi la mia passione è far divertire i piccoli ma hai detto bene se vedo un sorriso nei grandi è là che ho colpito veramente Ischia è una bella piazza vedo la gente che trova questi spettacoli ancora una novità è una cosa bella da vedere quindi la risposta è buona un'arte antica che viene riscoperta un'arte antica che viene riscoperta e si modernizza anche lei quindi dalla musica elettronica che prima non c'era così a tante novità tante tecniche che sono cresciute negli anni quindi c'è la tradizione ma c'è anche il moderno è difficile far ridere le persone? dipende allora è un grande studio a me piace molto perché la risata è quasi un meccanismo che si innesca la rottura di una routine fa scaturire una risata un animale che sembra una persona fa ridere quello che mi piace e mi afface è andare a scoprire questi piccoli meccanismi e sfruttarli davanti al pubblico quindi è difficile se la cosa è forzata se la cosa è naturale è facilissimo abbiamo inteso vivacizzare ulteriormente il Natale ischitano con una serie di spettacoli da strada che coprono un po' tutto il territorio dalla piazzetta alla riva destra così l'assessore Carmen Criscuolo commenta l'iniziativa Ischia Art che ha avuto il via oggi abbiamo abbinato questo appuntamento del giovedì con la proposta delle associazioni di categoria lo shopping con aperitivo dando così un ulteriore incentivo sia agli ischitani che ai turisti di trascorrere ore piacevoli all'insegna delle compare e del divertimento perché il giovedì spiega l'assessore Criscuolo per anticipare il weekend almeno per questo periodo festivo sentiamola un'iniziativa di Natale nel comune di Ischia per rendere più fantasiose le strade dello shopping ne parliamo con l'assessore Criscuolo allora come nasce questa iniziativa beh sì nasce perché abbiamo pensato che il Natale a Ischia dovesse iniziare con largo anticipo largo relativamente perché abbiamo iniziato l'otto l'otto dodici e abbiamo creato questo appuntamento dei giovedì qualcuno ha chiesto perché il giovedì e non nel weekend perché abbiamo cercato sperato più che altro che il weekend potesse anticiparsi e quindi consentire a chi aveva il piacere soprattutto agli schitani che sono naturalmente impegnati sì per lavoro ma che dopo una certa ora possono pensare di percorrere le strade dei nostri corsi dei nostri centri poi successivamente stasera sulla riva destra e ad Ischia Ponte anche durante la settimana per cui la speranza era proprio questa e credo insomma vedendo un po' di affluenza che in qualche modo ci siamo riusciti come funziona questa promozione? allora ogni giovedì abbiamo un appuntamento con artisti di strada musicisti delle rappresentazioni teatrali e si alternano occupando il corso la riva destra e Ischia Ponte il primo giovedì hanno iniziato con delle fasce orarie differenti negli altri giovedì capiterà che questi appuntamenti si accavaleranno perché magari il corso e Ischia Ponte verranno interessati dagli stessi orari però speriamo di poter fare in modo che ogni ogni posto del comune di Ischia sia valorizzato per quello insomma che speriamo di riuscire a realizzare è da quasi un anno che un gruppo di germani reali ha deciso di sostare in inverno nelle calde acque del porto di Forio così dopo il molo di Sant'Angelo dove le simpatiche anatre hanno piantato le tende già da tempo anche il mare Foriano viene vivacizzato da queste simpatiche creature per la gioia di grandi e piccini vediamo il servizio è da quasi un anno che un gruppo di germani reali ha deciso di sostare in inverno nelle calde acque del porto di Forio non è un fatto nuovo quello delle anatre isolane perché è sicuramente molto tempo che il porticciolo di Sant'Angelo è stato colonizzato dai germani reali evidentemente sulla nostra isola non si sta maluccio e così forse con un passaparola adesso le anatre si trovano anche sul lungomare della cittadella foriana anche qui sono diventate una simpatica attrazione soprattutto per i più piccoli che rimangono incantati nell'osservare quei magnifici uccelli acquatici dalle penne colorate di verde come accade spesso negli uccelli è il maschio ad avere la livrea più scintillante quindi quelli con il capo e la parte superiore del collo di color verde iridescente sono maschi mentre la femmina ha un piumaggio color bruno macchiettato una curiosità al termine della stagione riproduttiva in estate l'appariscente abito nuziale al germano reale non serve più e quindi lo cambia con un nuovo piumaggio abbastanza simile a quello della femmina che gli permette di mimetizzarsi meglio il germano reale è uccello migratore nella stagione calda si sposta nelle zone fresche come il nord Europa mentre all'arrivo del freddo raggiunge mete con un clima più dolce dove svernare forse anche a causa del riscaldamento ambientale ora non c'è più bisogno di volare fino alle estreme propaggini della Sicilia o del nord Africa così l'inverno o capoverde o marzaiolo come viene chiamato il germano reale ad Ischia lo trascorre sull'isola e facendo una battuta la gognata destagionalizzazione turistica eschitana piace alle anatre questa sera dopo il telegiornale trasmetteremo uno speciale sulla mostra finestra e sul futuro un progetto che illustra quattro sistemi di emissioni di CO2 lungo la costa dell'isola e la loro valenza come laboratori naturali per lo studio degli effetti del cambiamento climatico e dei nostri mari un progetto finanziato dalla National Geographic Society al centro Villa Dorne Ecologia del Ventos di Ischia l'inaugurazione della mostra si è svolta presso la sede della Lega Navale al Palazzo d'Ambra sul porto di Ischia nello speciale ascolteremo le interviste alla dottoressa Maria Cristina Gambi a Pasquale Vassallo fotografo e a Francesco Buono presidente della Lega Navale di Ischia che collabora all'iniziativa ma intanto vediamoci lo stralcio ringrazio l'equipe della stazione zoologica che mi ha dato il privilegio di poter realizzare questi miei scatti fotografici in siti davvero unici straordinari per bellezza e per effetto proprio di questo effetto di queste bollicine che è veramente incredibile per noi fotografi subacui soprattutto nel gestire questi scatti perché non è mai semplice perché sono siti dove c'è tanta sospensione dovuto proprio al movimento dell'acqua alla formazione di questo CO2 però da un punto di vista scientifico diventa davvero interessante in quanto parte le foto di ambiente che vedi questo effetto ma quello che vedi sugli scatti macro sugli organismi che vivono sul bentos che sono molto più piccoli e noti in modo particolare questo sbiancamento che avviene in alcune conchiglie che si adattano all'ambiente circostante è davvero un privilegio in quanto poi collaborare con loro con il National Geographic mi ha riempito di esperienze sono contento per questo ad ospitare la mostra finestre sul futuro la sezione schitana della Lega Navale parliamo con il presidente Francesco Buono allora come mai questo diciamo questa ospitalità è una cosa importante unire il mare in tutti e due gli ambiti noi 15 giorni fa Cristina mi fa una telefonata e dice possiamo parlare mi illustra questo progetto di cui per noi è stata una gioia incredibile perché poter coniugare la nostra passione per il mare che normalmente viviamo con quello che è il mare sotto di noi e sapere che cosa ci sta è portato a questi livelli di informazione e di visibilità per noi è stato cioè così abbiamo ora è stata una gioia poter partecipare a questo tipo di iniziative il centro Giuseppe Natale è la casa di accoglienza per il benessere dei ragazzi diversamente abili in età scolare ed extrascolare il centro si trova a Casamicciola in un'abitazione sottratta alla Camorra il centro quest'anno lancia la proposta di un Natale solidale invitando la cittadinanza a donare ai ragazzi che frequentano il centro dei laboratori pensati per offrire la possibilità di favorire la gestione di artefatti artistico-culturali un lavoro in grado di stimolare gli interessi e favorire i ritmi relazioni e obiettivi di espressività e di produttività ci sono laboratori di cucina e pasticceria lettura creatività manuale attività sportiva fattoria didattica ed orto didattico poi ci sono le escursioni si può scegliere di donare un laboratorio versando 29 euro o più di uno i doni sono suddivisi in pacchetti che danno nomi e costi diversi un dono che vale doppio spiegano dal centro Giuseppe Natale perché donare del tempo di lavoro e di divertimento a uno dei nostri ragazzi contemporaneamente e vicino anche alle loro famiglie il dono potrà essere anche nominativo cioè a beneficio di una specifica persona si può donare anche versando online sul sito galassia-terzosettore.org o attraverso anche delle donazioni attraverso bonifico bancario sfatare i luoghi comuni legati spesso al presunto appeal degli istituti superiori invogliare i talenti a intraprendere la giusta strada liberi dalle costrizioni familiari e creare interlocuzione positiva con le stesse famiglie non di rado ancorate ad una visione parziale degli indirizzi che per esempio continua a privilegiare i licei agli istituti tecnici così Lucia Monti dirigente scolastico della scuola media statale Giovanni Scotti commenta le attività che si stanno sviluppando nell'istituto nell'ambito di IEP il progetto promosso dall'associazione di volontariato Gabbiani Onlus che rientra tra le iniziative finanziate dal Dipartimento della Gioventù del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel settore Giovanni per il Sociale la scuola media Giovanni Scotti rientra nell'universo toccato da un progetto che nel solo primo anno di attività ha coinvolto un totale di più di 50 classi coinvolte si è già tradotto in 54 incontri con 12 esperti un totale di 2.508 studenti 168 ore totali e una serie di incontri con i genitori anche nell'anno scolastico in corso le attività mirano ad agevolare l'orientamento e il riorientamento dei giovani schitani e fino al prossimo mese di maggio IEP continuerà a rivolgersi agli studenti schitani attraverso percorsi di life coaching specifici rivolti anche alle loro famiglie lo sport il calcio l'isola di Procida calcio ha effettuato tre nuovi acquisti che vanno a rinforzare la rosa bianco-rossa il centrocampista Antonio Napolitano e i due terzini Under Domenico Matrullo e Vittorio Lubrano Lavadera Antonio Napolitano centrocampista classe 88 prelevato dal San Giorgio per lui una lunga militanza in serie D con le maglie di Sibilla Bacoli Pianura ed Inter Napoli l'anno scorso si è diviso tra Sibilla Bacoli in eccellenza e Nola squadra con la quale ha vinto il campionato di promozione Domenico Matrullo terzino classe 98 prelevato dalla Sessana e poi Vittorio Lubrano Lavadera terzino classe 99 prelevato dalla Procida Futura cresciuto nelle giovanili della squadra bianco-rossa esordito lo scorso anno in eccellenza con Franco Cibelli aveva iniziato la stagione con la società isolana di calcio a 5 ora è tornato alla base per questa seconda parte del campionato i tre acquisti sono già a disposizione di Mister Mandragora e prenderanno parte alla trasferta di sabato pomeriggio contro il Mondragone domattina alle 11 si svolge l'incontro conclusivo del progetto Colazione al Telese rivolto ai genitori degli alunni delle classi prime coinvolte nel progetto all'Istituto Telese all'incontro saranno presenti la dottoressa Manuela Di Costanzo biologa nutrizionista e l'associazione Artemisia domattina a mezzogiorno sarà inaugurata la sede ischitana della FAND Federazione e Associazione Diabetici dell'Isola di Ischia il centro è ospitato in un immobile del comune di Ischia che si trova in via Roma ed è stato messo a disposizione della FAND dall'amministrazione ischitana verso questa sede saranno effettuate visite gratuite da medici specialisti nei vari campi attinenti il diabete tra cui il diabetologo il podologo ed il nutrizionista il Natale ad Ischia continua nel segno della tradizione e dell'arte domani il borgo di Schiaponte ospiterà dalle 17 alle 19 Cantiamo il Natale una serie di concerti solidarietà a chilometro zero organizzati dal secondo circolo didattico di Ischia presso la cattedrale di Santa Maria Assunta e itineranti lungo le strade di Schiaponte con il coro Dolci Armonie in serata poi ci saranno esibizioni di balli latini e caraibici della scuola di ballo Ischia latino di Cristian Cigliano a via Roma con anche DJ Frenchi che in console sul corso Vittoria Colonna animerà l'area dalle ore 17 alle ore 20 ed ora come sempre a questo punto spazio al meteo vediamo che tempo farà sulla regione per oggi al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna schierite alternate a nubi sparse nel pomeriggio sulle coste soleggiato ma con poche nubi sparse in montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schierita revisioni per domani al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna parzialmente nuvoloso con schierite prevalenti nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni in montagna parzialmente nuvoloso con schierite prevalenti bene come a questo punto chiudiamo questa edizione del telegiornale vi lascio all'edizione nazionale del meteo e quindi subito dopo lo speciale TG noi ci vediamo come sempre all'edizione delle 14 arrivederci ci vediamo all'edizione qui Grazie.